ciao e benvenuti in un nuovo video allora oggi vi mostro la box goody box scritto godie box che è una servizio di abbonamento di beauty box che è uscito da poco molto pubblicizzato però ma è uscito abbastanza recentemente mi hanno inviato questa box per darvi un codice promozionale il codice sconto lo trovate nell'info box ma anche nei su instagram nelle storie se poi sempre evita diritto al 50 per cento di sconto sulla prima box le box in abbonamento sono a pagamento mensile e vengono 19 95 ogni box quindi potete scegliere avere una sola ed è pagarle a quelle che volete ed è abbastanza regolabile come abbonamento 19 95 box sconto del 50 sulla prima ma andiamo a vedere cosa contiene allora intanto si apre così a cassettino che è una cosa molto carina e la troviamo così anch'io non l'ho aperta quindi lo scopriamo insieme come sempre c'è contiene questo allora vediamo un po intanto ci piace già rituals full size è una shower gel con latte di riso e chari blossom credo che sia in proprio in gel ritua so fa cura se le bretti ok allora 200 ml ecco qui è una schiuma schiuma da doccia ok ma buono per tutto è un full size andiamo a vengo tra full therapy l'azione tonica essenziale per il viso made in italy face toner 200 ml quindi altro full size distribuito da sabattino italia senza alcol senza glutine senza ogm vegano formula per tutti i tipi di pelle è un tonico per il viso ok versare sulle mani o su un botuffo di cotone io vi consiglio sempre con le mani perché intanto evitiamo di consumare matuffo di cotone per niente e poi perché possiamo tranquillamente massaggiarlo nelle zone che più ci interessano ok ci sta da provare ci sta ma in tutto questo il profumo non l'ho sentito perché era chiusa che proviamo ad aprirlo ma un tonico non è che mi faccia impazzire forse il senza tutto non mi fa troppo impazzire direi che a questo punto andiamo avanti gold professional air care ok air scalp massager ha ho capito è una quelle spazzole da massaggio esatto che vanno a massaggiare il cuoio capelluto utilizzare così il cuoio capelluto è molto morbida allora a me piace per aiutare a per i trattamenti quindi per lo shampoo mi piace per questo mi piace anche il fatto che sia interamente in silicone bella morbida e quindi non vada a entrare l'acqua ad esempio quando è solamente i dentini perché in questo caso si scollano ma questo interamente in silicone e sinceramente mi piace per stimolare ed e sfogliare ma sì mi piace allora io li utilizzo sta doccia quando vado a massaggiare ciao e sì è ora di cena per loro e qui hanno la loro pappa e quindi mi stanno dicendo ti vuoi spostare che dobbiamo mangiare effettivamente due cose poi me ne vado due cosine basta perché abbiamo due cosine qua allora con s con s con è questa ed è un ripari di microbiome night cream 30 ml ingredienti cesta crema notte per riparare prevenire il direttamento peptide vitamina e mega 69 ma mi spiegate che cosa è una crema ok è stato l'inglese meno quella una crema lusso con doppia barriera contiene peptide attiva la buonazione nel microbioma della pelle e combatte il la deidratazione durante la notte raccomandato per normale secca e sensibile ok vabbè comunque la crema notte ci sta soprattutto nel periodo invernale vediamo soprattutto nel periodo più feo io la pelle mista tenete al grasso quindi in estate sarebbe troppo pesante però il periodo invernale o è molto corposa molto molto quindi ne basta davvero profumazione e veniamo all'ultimo prodotto anche come crema a mani non è affatto male allora ultimo prodotto lo conosco l'ultimo prodotto è il roller lash di benefit questo in travel sites da 4 grammi eccolo qua con le puntine interamente in silicone mi piace questa mascara ha un pack molto simpatico e molto carino buon mascara si fa quello che promette quindi niente da ridire buon mascara mi piace allora questo era tutto il contenuto della goody box sinceramente sono rimasta un po' perplessa ma anche positivamente perché comunque roller lash la gel doccia della ritual sin full size un tonico in full size e poi ha il massaggiatore per il cuoio capelluto che è un full size ovviamente qui abbiamo un travel size ente melle della crema per il viso e direi nient'altro perché il codice sconto ed è scaduto stavo dicendo se c'era qui ah ok c'era il codice qr immagino per vedere i prodotti ok ok allora sono rimasta un po' come dire no aspettate non mi viene la parola ma ve la voglio dire bene sorpresa perché quando mi dicono ti mando una box di prova con un codice sconto per le follower dico ok le tanti le hanno mandate sono sempre stata molto contenta di provarle però normalmente mandano le box di un mese non so se avete visto look fantastiche mesi scorsi ha mandato alcune box di mesi passati che gli era rimaste per far vedere come e come si come realizzano le box come si presenta e ok questa box io non mi ricordo tutti i prodotti ma alcuni sì nella pubblicità che fanno che soprattutto quando è uscita hanno fatto la pubblicità a manetta poi sparita ed immagino che fosse solo per l'uscita alcuni prodotti erano questi qua mostrati quindi il massaggiatore per il cuoio capelluto il roller lash di benefit e credo anche rituals e forse anche il tonico dove andare a vedere la pubblicità vecchia però mi sembra che molti prodotti fossero quelli mi viene da pensare che hanno fatto un super lancio iniziale però al prezzo pieno di 19,95 quindi 20 euro non tante persone decidono di sottoscrivere un abbonamento a una box del genere senza conoscerla forse era meglio come in questo caso hanno fatto con me dare un codice sconto da dargli a voi che quindi la prima box è scontata al 50 per cento quindi potete tranquillamente vedere quali sono i prodotti e dopodiché decidere se continuare l'abbonamento oppure fare un abbonamento per alcuni mesi e ci sta in questo caso secondo me hanno creato troppe box di questi prodotti con grande pubblicità e alla fine restandogli lì lo danno come come gifted per promuovere mi ha lasciato un attimo in tappetta questa cosa perché sono tutti prodotti pubblicizzati avrei preferito vedere la box del mese o del mese scorso ad esempio una box estiva andato per vedere forse sono andate sold out non so vedremo vedremo comunque sia prodotti molto carini che sicuramente e proverò mi piace molto questo fatto del cassettino che si può anche è bello rigido può contenere i prodotti all'interno mi piace questa cosa fatemi sapere voi come la pensate non è una polemica è solo un ragionamento perché polemiche mai anche perché me l'hanno mandata gratuita con oltretutto un codice sconto per voi quindi benvenga assolutamente i prodotti sono di marchi alcuni conosco altri no noti e validi ci sta e niente fatemi sapere cosa ne pensate io adesso vado perché perché loro hanno fame e quindi mi sposto perché così loro possono venire a mangiare niente vi do appuntamento al prossimo video ciao